Ennesimo incidente sul lavoro nelle scorse ore, un operaio è morto sul colpo, schiacciato dal torneo industriale sul quale stava lavorando. La vittima è un operaio italiano di 58 anni e l'incidente si è verificato negli stabilimenti dell'elettromeccanica Bonato in via Rosa, Luxemburga, Gongorzola, in provincia di Milano. Il dramma si è consumato nella mattina di venerdì, pochi minuti prima delle 11, inutile l'arrivo sul posto del personale del 118, intervenuto con ambulanze e automediche in codice rosso per il 58enne. Non c'era già più nulla da fare.